Come internet svolge una funzione diversa in base alla figura professionale che fa parte di un'organizzazione terroristica? I terroristi in senso stretto utilizzano internet più che altro per ricavare informazioni sul modo in cui costruire delle bombe artigianali. Ad esempio la strage di Boston del 15 aprile del 2013 è stata realizzata da due ragazzi, da due fratelli, fratelli Sarnayev, il fratello più grande aveva acquisito le conoscenze fondamentali per costruire la bomba attraverso una rivista online di Al-Qaeda che si chiama Inspire. Internet da questo punto di vista, almeno in base ai miei studi, non ha questa caratteristica di essere uno strumento di disintegrazione dell'identità sociale perché almeno in questi casi, almeno su questi soggetti svolge la funzione opposta di ricostruire le identità sociali perché questi ragazzi che vanno alla ricerca di risposte alle loro angosce esistenziali utilizzano internet per appagare questo bisogno quindi attraverso internet trovano tutta una serie di informazioni sul modo in cui devono comportarsi, sul significato stesso delle loro esistenze quindi dipende dai soggetti. Nei miei studi vale il discorso opposto, cioè internet veicolando la cultura jihadista svolge questa funzione di favorire la ricostruzione delle identità sociali. Che il processo di radicalizzazione di un terrorista jihadista possa avvenire interamente sul web è possibile ma piuttosto raro però per esempio Michael Bibo, l'autore della strage di Ottawa del 22 ottobre del 2014 aveva cercato di viaggiare, di recarsi in Siria, gli avevano ritirato il passaporto quello che sappiamo noi, Michael Bibo si radicalizzò senza aver avuto mai nessun contatto fisico con un militante dell'Isis, con un reclutatore, con un jihadista. Il processo di radicalizzazione non avviene mai, mai soltanto nel rapporto attraverso il soggetto internet. È un rapporto tra il soggetto internet e la società o se preferisce un rapporto tra il soggetto radicalizzato, la società e internet. L'idea che un ragazzo aprendo il computer e andando su internet si radicalizzi perché trovi un messaggio dell'Isis o un messaggio di Al Qaeda o un reclutatore che si mette in contatto con lui è totalmente sbagliata. Questo non accade, non funziona così. Anche quando un ragazzo inizia a radicalizzarsi attraverso internet è perché c'è qualcosa nella sua vita qualcosa di molto complesso che lo ha spinto verso un messaggio estremo. Michael Bibo da questo punto di vista è un caso esemplare. Non prende mai contatto con dei militanti jihadisti con dei militanti dell'Isis perché gli viene impedito, gli viene ritirato il passaporto quando gli cerca di recarsi in Turchia e quindi internet ha un ruolo molto importante nel suo processo di radicalizzazione. Ma Michael Bibo inizia ad attingere a queste informazioni su internet quando ha già una gigantesca crisi esistenziale. Questo è il punto, è che il processo di radicalizzazione è un processo complesso dove internet in alcuni casi gioca un ruolo molto importante e in altri casi un ruolo meno importante, ma non accade mai che internet sia l'unico agente. I reclutatori sul web esistono ma hanno un ruolo molto meno importante di quello che ne pensiamo. Nei paesi a maggioranza musulmana i processi di radicalizzazione avvengono attraverso i rapporti della vita quotidiana, mentre nei paesi occidentali i processi di radicalizzazione non vengono attivati dai reclutatori. Questo è il punto fondamentale. Cioè in città come Roma, Milano, Parigi, Londra non dobbiamo immaginare, perché sarebbe sbagliato, che ci siano dei reclutatori che vanno in giro alla ricerca di ragazzi che hanno crisi esistenziali. Quello che noi sappiamo è che questi ragazzi che sono riusciti a realizzare le stragi, nella quasi totalità dei casi, sono degli imprenditori di se stessi. Sono ragazzi che si mettono alla ricerca nella stragrande maggioranza dei casi. I reclutatori utilizzano internet ed è uno strumento senz'altro efficace per raggiungere individui radicalizzati o per favorire il processo di radicalizzazione di certi individui. Direi che da questo punto di vista è lo strumento più importante di cui possono beneficiare i terroristi. grazie. Grazie.